Il nostro prodotto principale è il ricamo 4.0, una tecnica ripresa dall'antica tradizione che ci hanno insegnato le nostre nonne del ricamo fatto interamente a mano, ripreso con un po' di innovatività utilizzando la fibra ottica diffusiva e altri filati luminosi. Il periodo difficile che ha suscitato il covid ci ha spronate a continuare a creare nuovi design e nuovi prodotti, infatti non ci siamo assolutamente fermate, anzi abbiamo ritrovato il tempo per riprendere un progetto che avevamo iniziato un annetto fa ma lo abbiamo concretizzato in questo periodo. Questo zaino fa parte della linea Blue Line e abbiamo deciso di lanciarlo sul mercato grazie a una strategia di crowdfunding sulla piattaforma di Kickstarter. Questa campagna di Kickstarter ci aiuterà a capire qual è il target di riferimento di dress coders per questa linea di accessori a livello mondiale. Abbiamo già ottenuto più di mille euro di finanziamento e con 14 sostenitori a livello mondiale che hanno deciso di aderire a questo progetto. Il completamento di questa campagna di Kickstarter per noi non è un punto di arrivo ma è un punto di partenza perché grazie a questa campagna riusciremo a continuare la nostra ricerca e sviluppo e sperimentare più prodotti luminosi possibili da implementare nei nostri prodotti.